Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Fidi Samu e oggi siamo tornati su Clash Royale Ok, dobbiamo continuare di nuova stilità classica e mettiamo il nostro deck che utilizza Ah giusto l'avevo cambiato, anzi ragazzi ci provo l'ultima volta con questo, ci voglio provare Vediamo se vinciamo e via! Fatta cercherò di vincere, cercherò di dare tutto il mio impegno Se vedete là sopra che c'era un torneo l'ho creato uno per me e uno per mio cugino per ricevere dei pavoli Ma questi sono dettagli Allora Oh cazzo però, cacchio, bene 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 Devo avere il tronco ragazzi Vaffanculo troppo tardi Vaffanculo troppo tardi Oh, bei tannetti li abbassi eh Adesso col piramando Vaffanculo Allora, se slega mi potrebbe dare alcuni problemi Bene Ragazzi no per diamcana Ce la possiamo fare Ragazzi giusto 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 l'ho messo le Wario Che c***o Che c***o Che c***o Che c***o C***o il c***o al 2 ma mi pre... ma seriamente No no raga ma che c***o è Adesso me la fai la torre si contenda almeno Un bacciallo questo veramente Dove ho ramprito i coglioni Ma voi la fai la fai la fai la fai Non voglio affanculo In verità non ve l'ho fatto l'ore E ragazzi Ragazzi Non esiste che io perdo così Non esiste che Io ogni volta devo perdere in questi modi così Eh raga no no Non esiste proprio eh Che stiamo a scherzare No raga no dai Non ci credo Sì non ci voglio credere Vaffanculo Ragazzi ho capito Che devo Devo cambiare deck Ho capito che devo cambiare deck Mi sono un po' a colpa per aver perso Ragazzi facciamo così La prossima volta Provo a cominciare Anzi ragazzi sapete che vi dico Questo è il turno che ho creato Questa cosa per finire Facciamo che Apriamo il baule Del torneo Speriamo di trovare Questi spiritelli del ghiaccio Che ancora non li trovo ragazzi Roba da non credere Veramente Aspettiamo allora Ok ragazzi ci siamo Aspettiamo gli ultimi secondi Prendiamo il vinipecca Mettiamo così Salutate Perfetto ragazzi Salutate youtube Ragazzi adesso voglio capire Perchè cazzo non ci hanno dato il premio Mi sa che dovevamo fare le battaglie Mi sa che dovevamo fare le battaglie Qualche battaglie dovevamo fare però Affan cucco Allora ragazzi Io credo che posso terminare qua il video Sì Devo cambiarlo assolutamente Perchè sicuramente non vincerà più nessun'altra partita La prossima volta ragazzi Inizieremo La coppa del re Perchè mi sembra una cosa abbastanza figa Combattere con un deck Che non è tuo Che ti dà il gioco Bene ragazzi Allora Vediamo un po' Se Tiziano Buon Perci può rispondere Niente Vabbè dai Ok Tiziano Se vedi il mio canale Se è stato messo Comunque Ragazzi Per il video vi seguiamo E noi c'è la prossima volta Ciao a tutti